Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento, come potete vedere qui davanti a me, le due ultime novità e nuove edizioni a cura della Games Workshop che sono la scatola di Dominio, set di base per Age of Sigmar nella nuova edizione, che dovrebbe essere la terza o la quarta, qualcosa del genere. Comunque, nuova edizione di Age of Sigmar in questo set di base Dominio, che comprende gli orchi Crudelazzi, bellissimo, che tra l'altro si sono molto distaccati dagli orchi del vecchio mondo, non sono più quelli verdi con le orecchie a punte e le zanne un po' scemotti e ingombiti, sembrano gli Urukai, veramente cattivi, bellissimi. E poi ovviamente abbiamo i figli eterni della Tempesta, che sono le Stormcast Eternals, i figli del dio guerriero Sigmar, che sono qualcosa di stupendo. E da quest'altra parte, che poi nel corso del video ci andrò a esprimere dei pareri personali, perché era una cosa che aspettavo da una vita, la nuova edizione di Warhammer 40.000 Kill Team, che come vedete ha cambiato anche il logo, perché è la nuova edizione di un gioco che, se nell'edizione precedente non erro, che ci abbiamo anche, già ci ho fatto un video, è circa di 6, 7, 8 anni fa, qualcosa del genere, regolamento rivisto completamente, quindi non è soltanto una nuova edizione, ma l'hanno smontato e rimontato da zero. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Warhammer Age of Sigmar Dominio, scatola di base del gioco di battaglie su larga scala, e Warhammer Kill Team, invece, gioco di schermaglia ambientato nel 40.000, sono le ultime uscite in casa Games Workshop, che ci ha fornito il nostro negozio sponsor, come trovate sempre, primo link in descrizione in sovraimpressione, gioco libreria Semola. E colgo l'occasione per ricordarvi che tutti i prodotti della GV, ma non solo giochi da tavolo, pitture della Citadel oppure dell'Army Painter, ma anche roba per la scuola, cancelleria e quant'altro, se usate il codice sconto CORIDAN7 avete uno sconto e un discount pari al 7%, e per spese superiore a 79€, più o meno 150€ a scatole, 300 tutte e due, non pagate le spese postali, quindi comunque fa sempre comodo e tutto quanto. Di qua, ve l'ho detto, scatola base del nuovo Age of Sigmar Dominio, e di qua Kill Team, che è un gioco prettamente di schermaglie. Non è un video cosa ne penso, e tra l'altro se vedete un po' cambiare la luce ogni tanto è perché purtroppo passano nuvole ogni tanto e si va un po' in oscurì il cielo. Questo è un gioco prettamente per gli amanti del fantasy e per quelli che vogliono fare battaglie e campalli fra eserciti. Per quanto anche lo stesso Age of Sigmar già comprende un po' di schermaglie più che battaglie fra eserciti, comunque diciamo che queste sono più battaglie fra unità, schieramenti con un generale a comandare. Kill Team, invece, l'ambientazione futuristica, che io preferisco, del 40.000, differisce appunto da Warhammer 40.000, gioco ed eserciti, dove si vanno a interpretare bande, o per meglio dire appunto Kill Team, che si fanno a battaglia fra di loro e potete avere bande esagerando da 7-8 miniature al massimo, il classico, una banda o comunque un Kill Team di Space Marine, Primaris, Intercessor, non è strano averne 3 in un gruppo. A volte 4 se non sono equipaggiati da paura, però di solito per farvi capire, con 3 o 4 miniature giocate tranquillamente. E sono giochi di una bellezza tale, poi ovviamente è roba da collezione, perché io conosco gente che li compra e non ci gioca nemmeno solo per montare i diorami, oppure per pitturarli anche direttamente, perché la roba della GV è da collezionismo, ed è roba veramente di un altissimo livello. E vi parlerò, farò dei video cosa ne penso di Dominio e di Kill Team, questa è soltanto una presentazione, ma quello che vi dico principalmente è la cosa più bella in assoluto, e vi giuro non scherzo, se qualcuno non ci crede gli mando le prove, gli mando degli screenshot. Due mesi fa, anzi no, vi devo dire la verità, tre mesi fa, prima di iniziare a fare il trasloco e venire a abitare in questa nuova casa, io e il mio amico Pippo, quel ragazzo che collabora con noi sul canale e dipinge appunto roba della Games Workshop, ma non solo, stavamo rifacendo il regolamento di Warhammer Kill Team, perché quello vecchio non ci piaceva. Io l'ho sempre detto, per me il regolamento più brutto che ha fatto la GV è il vecchio Kill Team, guardo lì perché ce l'ho lì. Se che lo stavamo rifacendo, mi abbiamo detto, ma visto che Warcry funziona bene, perché Warcry li funziona bene da paura che è lo skirmish in Age of Sigmar, perché non rifanno con le stesse regole anche Kill Team, visto che vanno bene? Lo stavamo iniziando a fare noi, ci hanno letto nel pensiero e l'hanno fatto. Ho fatto una partita con Rally sul Tabletop Simulator, che l'ho trovata anche sul canale, modificando un po' le regole del vecchio Kill Team e le stesse regole da me modificate, e lo ritrovate qui dentro. Quindi inizio a avere dei dubbi seri che la GV mi spi mi faccia ghosting durante le live. Ovviamente sto scherzando, e non vedo l'ora di farci dei video per farvi vedere anche tutto quanto il contenuto e c'è della roba dentro da paura. Nelle scatole base di Warhammer 40.000 e di Age of Sigmar non trovate scenari, ma anche perché all'interno ci sono la bellezza di 60 miniature, quindi già, e alcune anche grosse, già quelle valgono il prezzo della scatola. Di qua, essendoci magari in tutto 10-12 miniature, soltanto il prezzo è lo stesso, ma c'è uno scenario veramente spettacolare che tanto comunque aggiorni vi farò vedere in un video dedicato. Cosa ne penso? Così vi descrivo anche le nuove regole. E cosa ne penso sia di Kill Team che di Dominio? Io ancora una volta ringrazio la Giocolibreria Simola per averci offerto questi due prodotti e vi ricordo, se dovete acquistare qualsiasi cosa, primo link in descrizione, in soviimpressione, usate sempre il codice discount Coridan7 perché avete uno sconto del 7% e non pagate le spese postali. Lo ordinate oggi, il giorno dopo ce l'avete in 24 ore a casa, isole comprese e anche all'estero. Quindi anche se siete all'estero potete ordinare tranquillamente. A breve arriveranno e cosa ne penso? Ciao ragazzi, c'è la prossima.